da derby a derby da quello dello stretto a quello di via del mare contro il lecce basta conoscere la storia calcistica degli ultimi dieci anni per capire che lecce regina non è una sfida qualunque sul mante arboso dello stadio pugliese non scenderanno solo 22 uomini in campo ma un bagaglio di esperienza formato serie a e serie b vittorie epiche sconfitte brucianti la sfida tra attacco e punta d'italia riporta principalmente i primi anni 2000 quando numerose battaglie salvezza per la permanenza in serie a hanno contribuito ad alimentare quella rivalità già ben caldeggiata dal gemellaggio tra baresi e reggini il bilancio dei 21 precedenti totali è favorevole al lecce che ha vinto in più della metà delle volte sono solo due le affermazioni regine mentre sette gare sono terminate nel pareggio tre volte nelle ultime quattro partite il lecce ha realizzato 31 reti su vendone 12 la particolarità di questa sfida sta proprio nella difesa del lecce che si trasforma in un vero e proprio bunker quando incontra la regina in serie c avendo subito un solo gol negli ultimi 950 minuti giocati al via del mare in terza serie numeri e statistiche che poco importeranno le due formazioni che si affronteranno domani la regina si presenta alla partita con il dente avvelenato dopo il k o contro il messina è più arrabbiato il lecce che ha iniziato male questa stagione con la sconfitta contro la lupa roma all'esordio ed il pari a reti bianche dell'ultimo turno nel mezzo il successo di misura con il barletta in classifica quattro punti per il lecce quattro quelli della regina e l'operazione sorpasso abbia inizio